cari amici benvenuti in questo nuovo video di minecraft store mod e finalmente siamo pronti per continuare questa avventura piccola comunicazione di servizio volevamo fare in modo che spezzettando la live youtube avesse la forbizia di caricarla immediatamente sul canale e invece no invece ha deciso che nonostante avessimo fermato la live a un certo punto ha pensato bene di riunire insieme i video quindi in un modo o nell'altro sono tutte inutili ma il primo episodio adesso è online quindi qualora vi siete persi il primo episodio e vogliate iniziare da quello invece che da questa parte leggermente più avanzata andate subito sulla pagina video del nostro canale e iniziate per tutti gli altri che vogliono solamente continuare a scoprire che cosa succede in codesto posto andiamo subito a scoprirlo insieme ok salve ai guardo mi scusi quadro controlla il quadro pensava che questo quadro agli occhi bucati secondo me quel quadro qualcuno lo usa per spiarci com'è che non l'abbiamo notato subito c'è un passaggio toglietelo vai prova a puncialo come fai tu mamma mia era di valore avevo detto che c'era qualcosa che non tornava in quel creeper e c'è una leva nascosta potrebbe essere quella che attiva la trappola siamo sicuri se non vuoi cercare di scoprirlo proviamo mi raccomando attenti mi raccomando non state vicini alla trappola e quindi toglietevi di torno attenti sono lontani di poco l'abbiamo trovato qualcuno era nascosto e al momento opportuno ha attivato la trappola e ha ucciso quel tipo sappiamo che noi siamo innocenti che lo erano anche quelli che sono morti ma guarda un po ok andiamo a investigare complimenti per aver azzeccato subito che quel creeper aveva qualcosa di strano perché ho visto gli occhi che non mi convincevano sta cosa dei quadri con gli occhi bucati non è la prima volta che la vedo ok saliamo e vediamo che cosa andremo a scoprire da queste parti quindi siamo andati via dalla cucina perché siamo accorti che era l'unica cosa interessante probabilmente probabilmente tutte le altre cose che avemmo cercato in cucina erano inutili l'importante era il creeper ottimo dobbiamo dovete fidarvi fidatevi di me io so sempre quello che faccio anche quando la mattina mi metto i broccoli nei capelli e fidatevi sono una persona normale ma di cosa perché così jesse pensavo che tu sei la zucca bianca che secondo me effettivamente potremmo essere non la zucca bianca è vero un altro quadro con un'altra trappola direi che è il caso di sbuccare no non tirarla a me la guardiamo no non toccarla non toccarla mi chiedo quanta bella redstone ci sarà qui nascosta sorprendente lo stavo solo guardando non rompere non sono scemo meno male che grazie per aver votato per essere molto sicuro di me quello che faccio ok guardiamo cosa si fa può vedere qualcosa attraverso quel posto guarda che cosa si vede questo è un testificate no è il coniglio è il coniglio è tanto che era sospetto quel coniglio con gli occhi azzurri l'avevamo notato il coniglio ha gli occhi azzurri quel coniglio qualcuno si stava spiando durante l'interrogatorio qualcuno ha visto tutto Dan Dan non è Dan allora Dan mi raccomando mi sembrava che comunque anche la prima volta che l'abbiamo incontrato aveva gli occhi verdi quindi colpevole potremmo avere gli occhi verdi ha di nuovo cambiato il colore il colore dei capelli cambia continuamente guarda c'è un altro dispenser lo voglio attivare no albisi tento tento mi raccomando eh c'è un altro qui c'è un altro qui mamma mia quanti dispenser so che tu hai premuto il bottone no non è vero non devi mentirmi lo so che è stato un incidente lo so che tu non sei il white pumpkin ah meno male c'è un altro attenti attenti attenzione non stare vicino ai dispenser non stare sotto ai dispenser uno una leva controllerà una trappola in cui siamo noi ma l'altra leva potrebbe controllarne un'altra tutti questi quadri bucati attenzione ci ha notato ci ha notato se ne è accordo che c'è qualcuno ma chi può essere proprio perché non aveva gli occhi di quel colore strambo c'era l'azzurri secondo me il coniglio davanti a quel coniglio da qualcosa di strano con gli occhi azurri presto rompete il quadro e andate di corsa rompi il quadro veloce veloce sbrigati toglietevi ritorno subito tutti quanti che cosa sta succedendo presto colpitelo sbrigati non c'è tempo da perdere e quello non se ne è ancora andato via ma che caspita ma è possibile andate andate intanto andate no hanno paura basta e siamo bloccati dentro ma dai che stupidi ci sono ragni ovunque si da te di fuoco ai ragni ovunque meno male che ah ma qua con la spada c'è l'altra sono il biscolo di argolo vai vai vuoi andare vai 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 di qua di qua non importa devo combattere contro di lui ma da solo vai sono beccato finalmente si vabbè ne abbiamo dovuto sacrificare uno ma per il bene di tutti scoli dice che non moriva se ce ne occupavamo uno di lei ammazzalo ammazzalo siamo tutti siamo in tanti siamo in tanti siamo in tanti siamo in tanti qualcuno colpisca lui non sono i ragni anche lui ecco mi raccomando vai buttalo nelle fiamme gli ho fatto male la mia maschera tagliali la maschera così scopriremo chi è ce l'abbiamo fatta no la pozione magari solo acqua attenti ha buttato via tutto attento scricorilo siamo rimasti solamente io contro di lui non è una bella cosa questa da sapere abbiamo una spada perlomeno come ride lui voglio imparare anch'io però ma dici che si sapeva vivere a quella tipo se non è perché sinceramente può darsi ma se non cercavamo di vincorre ma come fa da fare le scale in un anno secondo era peggio attenzione ci toglie le scale no corri corri scappa 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 vattele vattele ti voleva sparare quante frecce ancora quante trappole no 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 guarda su guarda su guarda giù guarda giù saw sand oh no ti ci vuoi chiudere dentro attento che se non ti fai ti piaccia lava lava spiegati spiegati giudetti vai 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 ok come fa a salire esattamente oh rompe in un blocco no 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 non usare non usare ah è scappato via accidente a lui addio come diamine ha fatto quella cosa con saltino ciao accidente a lui l'hai preso l'hai preso no quasi 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 ha rotto il quadro di Ivo quindi forse lui non morirà perché l'ha rotto quindi non può metterci la X questo tipo è bravo prendetelo prendetelo vai gli taglieremo la strada taglieremo la strada e no che vuoi tagliargli la testa cosa vuoi tagliargli tagli quella zucca di testa vedo di chi cavolo è perché gli occhi gialli poi ma qualcuno che deve avere gli occhi azzurri chi è? è un zombie secondo me è un zombie troppo buio no è Lucas è Lucas con la testa ciao gli hanno messo la testa di zucca come addosso sto cercando di capire cosa è successo ma come puoi pensare che sia lui il kill? l'hai lasciato andare l'abbiamo visto anche contemporaneamente gli ha messo la zucca in terra non l'ha visto immagino Pensano che sia stato lui No non è lui No non è lui Quindi praticamente abbiamo capito Dai discorsi che hanno fatto prima Che Sparcos è morto perché per sbaglio Dan ha attivato la trappola Ma Dan l'ha ucciso Sparcos Se sbaglio Ma dai discorsi forse è quello Poi ce lo direte anche voi nei commenti E l'avevo detto che qualcuno magari pigiava per sbaglio Ste cose orribili sono cominciate a cadere Quando voi siete arrivati Quindi siete voi cattivi E ora è morta anche Lizzy Gli buttiamo fuori e la natura prenderà il suo corso Come fuori? I quadri c'è un quadro della zunna Cosa è successo Dan di nuovo? Ha cambiato quello di capelli un'altra volta Non è possibile Ma posso dire che tu abbia sempre il tempo di rifarti la tinta? A quanto pare sì O magari uno di quei tipi Ho negato che si te ha gasato alle orecchie Ok ringraziamo Dan una volta tanto Beh Dan probabilmente non è il colpevole Comunque non è neanche inizio a quanto pare Quindi di Dan forse è l'unico di cui siamo sicuri? Anche se potrebbe aver ucciso l'uno quell'altro? Volete chiuderci nell'armadio? Sì andiamo a richiudere in un armadio Sempre un buon posto C'è un cavolo di quadro della zucca Ma possibile nessuno si è messo a togliere i quadri per vedere dove vanno? Il gatto si lecca Non ne frega niente di chi sta morendo Nulla Lui è l'unico che sopravviverà Mangiando i cadaveri degli altri Non senza uno di noi Dobbiamo andare insieme Ok Controllerò io che stia bene Lucas Ecco Che bello Miau E' bello contento Lucas A breve live E il gatto si lecca Fantastico Non fatti niente divertenti Biondino Lo stanno veramente tenendo come prigioniero I prigionieri non devono parlare Il gatto ti può annusare i piedi se vuole I gatti possono fare quello che vogliono Dobbiamo cercare di fare in modo che la gente non pensi Che sia stato Lucas Dobbiamo trovare quello giusto Dobbiamo capire intanto come è uscito a scappare Da un quadro Sarà scappato da un quadro Ma questo tipo è imprevedibile Temo Sembra un piano per me Rompi quel maledettissimo coso Due ore che lo sto dicendo Vai da sto quadro maledetto Non mi dire che non è un quadro Che è un quadro vero questo Puncialo 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 Con la testa stavolta Puncialo Cosa Puncialo Puncialo A testa vai carica la testa E via Non è mica difficile Un altro passaggio segreto Ma no Noi stiamo andando a colpo diretto Verso le cose giuste E guardate un po' A le frecce avvelenate Mi chiedono in che ordine vado a messa Prendila Prendi anche questo Devo fare Devo invertire le cose Non ce ne sono un milione Ci sono circa nove combinazioni possibili Vediamo se riesci a sbagliarle tutte Boh Piazzo Cioè stavo cercando la combinazione giusta Completamente a caso No sono sei Hai ragione sono sei Vai Non funziona Accidenti C'è una connessione qui C'è una connessione Allora Qual è la connessione Usate la connessione qual è Qual è la connessione Invertiamoli tutti Di là c'è quella E si sono chiuse le porte Quello sembra giusto E infatti volevo invertire la freccia No Volevo invertire la freccia con la sabbia Ok Inverti Inverti Ok Quindi abbiamo Prima la freccia Se la freccia colpisce la sabbia Ti rallenta Ti rallenta Sì perché ti uccide Bene E ultimo pezzo Chissà mai cosa potrebbe andarci Ce l'abbiamo fatta Non si apre Si apre There we go Awesome Ok Venite tutti Venite tutti C'è un buco nella fogna lì Ce l'hai fatta Visto Dovete stare qui Potrebbe essere molto No 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 Venite anche voi Vogliamo scoprire se sapete qualcosa No no Voglio seguirvi In questi posti spaventosi Sì Fali venire Fali venire Almeno moriranno Ci togliamo Dei concorrenti Su Via Vero magari per una loro inoscenza Ma per me già sta meglio Con i capelli blu comunque Vai Venite Venite tutti No Non sono venuti Non c'era bisogno Che venissero Dopotutto Nessuno ha un secchio d'acqua Con sé Come scendiamo Al pipì ovunque O le 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 palle Le l'elitra L'elitra Vi immaginate se volaste giù con l'elitra Ma non credo che sia l'elitra Ma noi lo fermeremo Non ti preoccupare Petra Vedrai che tutto il tuo blatterare Non serve a niente Ce la faremo Sì Tre volte al minuto Doveva semplicemente buttare Tutto questo fuori Siamo tutti preoccupati Questo white pumpkin È un maledetto Che vuole cercare Di ucciderci tutti Alla ricerca Probabilmente De flinta E stile Che abbiamo noi Vorrà ammazzarci Per vedere chi ha l'inventario giusto Di capire Di catturarlo Evitando che Lucas Venga accusato Ingiustamente Stava stuzzicando un po' di roba Bene Rubiamo tutto Così facciamo le scale Le torce anche Le scale magari Ne ha di leco Perché diceva di avere il legno pieno Dell'inventario Stai pensando Alle scale Ma certo Ma io prenderei Un po' di torce Però perché è un po' buio Là dentro Potrebbero volerci Le scale di eterne scale Lavora anche tu C'è una crafting table Anche per te Ah bisogna fare una gara Che ne fa di più Ma che senso ha Vai Gara che le crafting table No ma che senso ha In questo momento Mettete da fare le gare Così No Tutte Tutte Non puoi mettere tutte Fino al giorno del giudizio universale Ci starai Ma non puoi mettere Come Vabbè Te fanne una Voi magari te le da tutte Vabbè Sì Che bello Buonanotte Buonanotte Non posso metterci così Oh Dove sono finite gli altri Torna qui Vieni qua Dai Yeah Le ho fatte prime Ho finito L'è già finita Slowpoke E l'ho capito Ne avevo bisogno Aveva bisogno di fare le scale Eh aveva bisogno di fare le scale Sapete Per Scaldarsi i muscoli Vai sbrigati Fali un po' più veloce Vai Ecco bravo Sbrigati Non ne hanno mai detto nessuno Che le puoi fare anche tutte insieme Vero No Non ce l'hanno detto Purtroppo Pronti a scendere Si Va Giù Ne serviranno un po' di più di una Mi sa eh Non è molto contento Vai Andiamo Come fai a me Le metti col pensiero Pensa Così Scendiamo Nell'oscurità Dell'universo Guarda che se finisce quell'episodio Mi incavola Achievement unlocked Siamo al 4 Sato finisce O al 5 Al 6 Non me lo ricordo Quindi Stiamo Continuando Nella nostra discesa Verso il Ce l'abbiamo fatta Meno male che prendiamo di sotto il legno Se non eravamo fuori La troveremo la white pumpkin Perché non sono portati anche gli altri biscari Però dobbiamo portarseli The white pumpkin è su Mentre noi siamo qui sotto Lui è su E ovviamente sta uccidendo tutti gli altri Bene Abbiamo un problema in meno Almeno Andiamo Spero No il gatto è l'assassino Secondo me Ti immagini Ti immagini È il gatto l'assassino È il gatto umano Ci sono un sacco di zombie qui sotto Bene Spuzzano Che stifo No è Gian Gingillo Gian Gingillo che puzza così tanto Che succede C'è una prigione C'è una prigione Ci sono tutti quelli che sono morti magari No li abbiamo visti morire Non possono essere ancora vivi Sono i zombie della fogna Ci sono le fogne Dove ci sono gli zombie Che cercano di entrare Ok Bene Ciao zombie 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 Ci dovrebbe essere sicuramente una leva Che attiva queste cose Da qualche parte Io li lascerai chiusi per il momento E io penso che sia meglio Zombie spawner Addirittura Ah Li sta spawnando Quindi il fatto che ce ne siano Migliardi di miliardi fuori È perché La white pumpkin Li sta creando Ma com'è che lui non è mai rimasto ucciso Nel creare Il risparmio dei zombie Questa è follia Magari è Elegard Questa è Follia Questo è l'inventario Che aveva l'altra tipa Forse Che sta slittando su Stanno provando oggetti Che hanno ammazzato Di nuovo Hanno appena ucciso Lo nuovo Eh temo di sì sai Questo è tutto l'inventario Della gente che sta morendo Ma così sparisce Dopo qualche minuto È la roba di Lizzy Ah Ha degli hopper sotto E se le sta mangiando E dobbiamo capire Dove portano Queste condutture Penso che dovrebbero Seguire con le scale Ancora Lì c'è Un tunnel Luminoso Dobbiamo cercare Di sedi e fila sopra Come ci arriviamo Beh bella storia Seguiamo la strada E magari riusciremo A capire Dove conduce Facciamo un po' di dirt Noi ora scaleremo Tutto Con la dirt Perché le scale Non vanno più di moda Wow Potevate farlo Due blocchi più davanti Ma come No potevate farle Bene bene Come vi è venuto in mente Di farle male Salta 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 Petra 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 E la chiappala E vai 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 O perdiamo Petra Salviamo gli altri E perdiamo Petra Dai Bravi Vieni più là Sto un po' troppo sul bordo Per i miei gusti La prossima volta Però guardate Ci dovreste sapere Come Dovreste sapere Come si gioca a minecraft Mi sa che anche noi Da allora Noi Non si sta bene Chi gioca peggio Ok Sembra Dovevo stare un po' così Un gatto Gatti Gatti Ci sono dei gatti In giro Davvero Sembrano dei gatti È finto È un armostending Cosa Diamine Significa Stai continuando Le zucche bianche Quindi in questo luogo Le zucche Sono bianche Le può creare Quante le vuole C'è qualcuno? Ha gli occhiali in testa Però E anche io pensavo Dove stare un po' con silenzio Sebbene se stampi Mi sembrava che avessero orecchie Mi vedo spaventato Cosa ci fate qui sotto? Cosa ci fai tu qui sotto? Che diavolo ci fai tu? Noi stiamo a cercare la zucca bianca Che diavolo ci fai qui sotto tu? Come ci sei arrivato? Sono contento che non l'avete ancora trovato Io non posso So white pumpkin Sono stampi Cat Non sono mica un assassino Ma se muoi adesso O ti crediamo? Volevo trovarvi Perché comunque cosa importante da dirvi Stai più vicino Che quando c'è una trappola Ma vado a arrivare fin qui lui Esattamente però Usando le scale Non lo posso dire a nessuno Cosa? Ora ci uccide Diccelo Sbrigati Ce l'ho io? Ha un quintestile? Ce l'ha lui un altro Ce l'ha verde L'ha rubato lui Doveva essere uno scherzo Solamente un prank Da caricare sul canale Ma hai visto poi cosa è successo? Perché non l'hai detto a nessuno? Perché? Non sapevo che le persone lo volevano Accidenti E ho spaventato Vedevo che le persone hanno iniziato a morire Io E io Non Non credevo che pensassimo fosse stato io a farlo Forse sono un lato Ma non sono certo un assassino Quindi lui Ha rubato Il Il quintestile Adesso qualcuno sta uccidendoli tutti Per questo quintestile Magari lo devo giustamente Dare al white pumpkin No 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 Pessima idea Tientelo O Dan si dà lo a Dan Se ci muore Dan Prima cerchiamo di capire chi è sto white pumpkin Al massimo ci muore stampi Pazienza Tutti gli episodi saranno disponibili sul canale Le prime due parti sono già online al momento Quindi se volete vedere in ordine Andate sul canale E poi vedrete le altre parti Non appena saranno pronte Tanto che siamo diventati dei veri badass Noi ultimamente Siamo cattivissimi Che posto Meo 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 ovunque Come? Meo ovunque Non li ho visti gatti Sulla libreria era pieno No te li sei sognati Non me li sono sognati Perché È pieno Di gatti Il gatto è la spia Della zucca bianca Qualcuno aveva scritto in commenti che era il gatto Anch'io sostenevo che fosse il gatto Guarda aspetta Guarda ci sono le ceste con i nomi dei morti Ognuno conterrà La roba Chest of the dead La roba di quelli che sono morti E infatti C'è Tutto il sistema Di Oper Che conducono qua Non ci posso credere Dobbiamo capire Che cosa Si cele in questa stanza Ma per la terza parte Direi di concludere qua Date un'occhiata Appena sarà Disponibile sul canale Almeno così Non ve la perdete Se siete in live Aspettate un attimo Torneremo in un momento Di nuovo Connessi In modo da andare avanti Con questo episodio E concludo Nel prima possibile Perché siamo veramente curiosi Non cegniamo stasera Non serve mangiare Ma l'importante È vedere Come va a finire Soprattutto se a voi Fa piacere E scoprirlo Nel prima possibile Noi vi ringraziamo di cuore Pensate con noi A tra pochissimo Con Dieter Love Ciao Ciao